non ho ancora finito comunque è da quando sono stata a Thailandia che ho una faccia gonfia e con gli occhi così come se avessi fumato un tronco di margione mai fatto in vita mia non so che fa che faccio guardate adesso vi faccio vedere vedete cioè non sono le mie ciglia non sai perché non sto in high non ho fumato nada però che sta passando sto cercando di capire se è normale o no perché sto intentando dei non so se è normale mi cara sta inciadissima cioè sono gonfissima ho mangiato qualcosa di strano cosa dovrà rispondere a uno che mi ha scritto ma ti chiami maya perché sei la fine del mondo what comunque ragazzi non è che mi sia gonfiato sulla faccia anche le puppe cioè cos'è sta roba se mi inciare toda la cara mi corpo tengo dos bollas che già me la scomo o sea no no vabbè io devo far vedere nello specchio perché non rende cioè are you fucking se ma ma che sta passando a chi che sta passando a chi what the fuck poi no non sono imbarassata perché non cingo desde como a 6 agosto poi no no grazie che non sono non sono incinta perché non non faccio pam pam d'agosto ragazzi quindi direi che a meno che gesù non ha voluto fare questo regalo però e poi non so se vedete la mia faccia no cioè mira mi cara tengo dos o sto nel tutto il di essi comunque sto ligando con alguien sembra che sto che lo sto sto cercando di provarci con qualcuno però no zero c'è proprio così tutto che sta passando chi ragazzi sto cercando di fare una foto ma non oggi non mi vengono foto sto terribile